Siamo ormai in zona rossa perché il livello di contagio non si può più reggere. È evidente che bisogna prendere misure eccezionali. Così il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Facebook. Come è del tutto evidente, siamo arrivati alla terza ondata in tutta Italia. Per la Campania, da oltre una settimana, registriamo sui 2.500 nuovi positivi al giorno, che significa che dovremo fare il tracciamento dei contatti per almeno 25.000 persone. È evidente che in queste condizioni diventa impossibile, ha aggiunto il governatore. La zona rossa dunque è ufficiale, tuttavia era stata ampiamente prevista e annunciata non solo dalla stessa unità di crisi della Campania, ma era abbastanza evidente anche dai numeri giornalieri relativi al contagio in costante aumento, così come i posti letto di terapia intensiva occupati. La terza ondata, che era stata annunciata subito dopo Natale, in realtà è arrivata ora. La causa principale sembra essere quella delle varianti, oltre ai netti ritardi dell'Italia, nella vaccinazione. C'è una netta accelerazione dell'epidemia, con una incidenza nazionale che sfiora i 200 positivi per 100.000 abitanti, con una previsione di ulteriore peggioramento. Nei prossimi giorni potrebbe raggiungere quota 250 ogni 100.000 abitanti. E' quanto emerge dall'ultimo report sull'andamento dell'epidemia relativo al periodo 22-28 febbraio. L'incidenza nazionale nella settimana di monitoraggio, quindi si allontana dai livelli del 50 per 100.000 abitanti, che permetterebbe il completo ripristino sull'intero territorio nazionale dell'identificazione dei casi e il tracciamento dei loro contatti. L'RT medio nazionale raggiunge quota 1,06 e ritorna dopo mesi sopra quota 1. Ospedali sempre più sotto stress, il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in aumento, 26% contro il 24% della scorsa settimana. Il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è in risalita da 2.146 della settimana scorsa a 2.327, il dato è riferito al 2 marzo. Aumenta anche il numero di persone ricoverate in aree mediche, passando da 18.295 del 23 febbraio 2021 a 19.570, dato del 2 marzo 2021. Tra marzo e dicembre 2020 si sono osservati 108.178 decessi in più rispetto alla media dello stesso periodo degli anni 2015-2019, un eccesso del 21%, volendo stimare l'impatto dell'epidemia Covid-19 sulla mortalità totale. Nel 2020 il totale dei decessi per il complesso delle cause è stato il più alto mai registrato nel nostro paese dal secondo dopoguerra. 746.146 decessi, 100.526 decessi in più rispetto alla media 2015-2019, un eccesso del 15,6%. Questi i dati ufficiali dell'Istat. Una situazione drammatica in tutto il paese, in particolare in Campania, con l'aggravante che in generale scarseggiano ancora le dosi dei vaccini. In questo contesto generale però Ischia è in assoluta controtendenza. Non sono in aumento i casi, non sono in aumento i ricoveri, non sono in aumento le terapie intensive e la campagna vaccinale procede discretamente. Sulla possibilità di una valutazione specifica della situazione epidemiologica per le isole, il sindaco di Ischia Enzo Ferranino conferma che ci si sta ragionando sulla fattibilità tecnica anche da un punto di vista legislativo e si cercherà di interloquire con l'unità di crisi regionale non tanto per il periodo immediato ma almeno per il post-Pasqua. Ischia non potrebbe sopportare ulteriori restrizioni se non necessarie. Difficile però che De Luca faccia un'eccezione creando un clamoroso precedente. Con la zona rossa si ritorna al divieto di spostamento sia all'interno del proprio comune e a maggior ragione per spostamenti in altri comuni se non per comprovate esigenze. Restano chiuse le scuole, i bar e i ristoranti, resta comunque consentito l'asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio. Chiudono anche barbieri e parrucchieri, chiudono i negozi e i centri sportivi. Sarà comunque consentito svolgere attività motori all'aperto ma solo nei pressi della propria abitazione. In zona rossa sono inoltre chiuse tutte le attività commerciali eccetto i negozi di generi alimentari e di prima necessità. L'accesso è limitato a un solo componente per famiglia. Aperti anche i mercati solo per la vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e vivaistici. Restano aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.